Ciao Pio, sono Ludo Brusco di Mr. Hyde, volevo fartiti in bocca al lupo per questa tua nuova avventura su YouTube e non te lo dimenticare mai, sei il più forte, parola anche di Gian Vero, di Francesco Ciao Pio, grande! Grazie a Mr. Hyde per il video che mi hai inviato, bravissimo guardate, e volevo ascoltare alcune delle sue ragioni, ciao ciao a te! Ho aperto, tutto gratis, ho frenuto! Basta sentirsi solo parole per riempire quei discorsi, per ritornare su perché ci siamo persi, cercando una ragione nuova per confondersi, chiedersi cosa rimane, lampi di luce in una storia senza fine, le mani fredde in una notte da scaldare, mi mancheranno quei tuoi occhi, scrivendo ancora di bianco le notti senza tempo. Nella mia mente ancora c'è, quell'immagine di te, che non so lasciare andare, quello che voglio ormai non c'è, apro gli occhi e sento che forse è tutto da rifare, dimenticare. Fai come vuoi, se c'è un temporale passerà, asciugherò queste mie pene, con un'altra forse diecicento, o aspettando che ritorni tu, fai come vuoi. Mi chiedi come stai, dovrei risponderti, va tutto bene, tranquillo, giochiamo a fare gli ipopti, in questa corsa per me, né vincitori, né vinti, ognuno i suoi rancori, i propri limiti, dove sei? E mi manchi adesso, se poi, nei tuoi giorni ci sarò, Io crederemo l'amore che supera tutti gli ostacoli. Dove sarai, stasera, quante volte morirei per questo amore in cui non hai creduto mai? Quei copi senza tempo, stasera, ma giochiamo con il vento, dico ancora che mi ami quando chiedono di te. Ciao Mr. Hyde, grazie! Grazie a tutti!